Federica è una serata importante perché tra qualche minuto affronti una platea a te molto familiare che è tutta qua per ascoltare le tue testimonianze e un po' anche per capire il motivo di questo libro. Ma è meglio che non penso alla platea e non penso a niente perché se no mi viene un'ansia, no sono contenta perché poi alla fine se c'è tanta gente è venuta per bovo e quindi è un po' la cosa che speravo, il ricordo è sempre più vivo, è sempre più intenso e questo era uno dei miei tanti obiettivi quando mi sono imbarcata in questa avventura. Chiedo quanto è stato difficile scrivere questo libro, quanto tempo hai impiegato dal momento in cui hai fatto questa scelta? Ma è stato settembre dell'anno scorso che è stato questo percorso che ho voluto affrontare pensando ai miei bambini per far conoscere papà. È passato un anno e passa e sì è stato intenso, doloroso però poi alla fine è bello perché poi abbiamo fatto pure un sacco di risate con Alfredo che ha iniziato un po' questo percorso e l'ha continuato Anna che è stata meravigliosa perché è riuscita veramente a mettere tutte quante le cose che io dalle tante chiacchierate gli dicevo. Quindi un grazie speciale a lei. Sì, di che sensazioni hai avuto quando hai ricevuto il libro in mano, opera finita? La prima sensazione è stata forse il dolore perché vedere un po' il libro non è stato facile però poi alla fine ho visto Bovo in copertina e ho immaginato lui quanto fosse stato contento nel vedersi quindi dal dolore iniziale il dolore poi è diventato una grande gioia. Stasera ci troviamo a Modena che non è stata una scelta casuale e voi a Modena avete vissuto tre anni Bovo Lenta era qua come giocatore di Modena, tra l'altro a lui è legato ricordo per i tifosi che ci sono stasera dell'ultimo scudetto è stato però un periodo quello importante della vostra vita perché non eravate ancora sposati stavate cercando il primo figlio dei cinque che sono arrivati e tra l'altro tu eri ancora giocatrice perché dobbiamo ricordarlo, Bovo è stato un grandissimo campione però ricordiamo che Federica ha chiuso la sua carriera vincendo un campionato di pallavolo nel modenese a Pavullo. Sì, Modena è tre anni passati insieme qua, uno scudetto vinto da lui, una promozione da me la preparazione del matrimonio e Alessandro che è arrivato quindi sì a Modena ci abbiamo lasciato il cuore ci abbiamo lasciato tanti amici che con il corso degli anni sono rimasti e quindi sì speriamo bene che oggi poi vedo che c'è tanta gente quindi no è un'emozione molto bella. C'è una persona Modena che ti ha spinto a fare, ti ha aiutato, ti ha sostenuto nel realizzare questo libro che è Eugenio Collini? Sì, è il mio angelo custode quindi è la persona che è stata e starà accanto a me sempre è la persona che si è fondamentale nella mia vita. Grazie Eugenio. L'ultima cosa, il complimento che sarebbe più bello per te ricevere dalle persone che hanno letto questo libro che leggeranno questo libro che lo ricordiamo è in vendita proprio da questi giorni. Federica Lisi Bovolenta, quando dicono Federica Lisi Bovolenta e Bovolenta sempre presente per me è una gioia immensa, c'è Bovo sempre. Grazie a tutti.